Ben trovati in studio. In apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale torniamo ad occuparci dei manifesti comparsi qualche giorno fa a commiso contro il Partito Democratico. Atto secondo, avevamo titolato la vicenda, oggi arriva la risposta del PD. Sentiamo. Il PD passa al contrattacco. Ha impiegato qualche giorno il partito per pianificare la sua contromossa che oggi è arrivata in tutta la sua portata. A scendere in campo i vertici del partito, gli stessi chiamati in causa dai manifesti comparsi qualche giorno fa sui muri di commiso che parlano di ingiurie, calunnie e falsità nei loro confronti e nei confronti del PD. L'onorevole Pippo Di Giacomo e il segretario cittadino Gigi Bellassai oggi hanno risposto alle accuse fatte dal PDL che nei suoi manifesti ha fatto lungo elenco delle spese sostenute dalla precedente amministrazione che avrebbe causato a giudizio degli esponenti del PDL il dissesto a commiso. Totale quasi 60 milioni di euro. Un atto, dichiarano dal PD, che mira ad ottenere precisi obiettivi, distrarre l'attenzione dai disastri della giunta al Fano e confondere le acque sulle responsabilità di questi disastri, ma non solo. Il manifesto che hanno messo completamente falso ha un obiettivo ben preciso che è quello di abbattere fisicamente soggetti politici che loro ritengono particolarmente insidiosi, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui in quei manifesti ci sono anche esponenti e dirigenti politici che non c'entrano nulla con le attività amministrative dal 98 al 2008, oppure in alternativa se non funziona l'abbattimento fisico da parte di qualche psicolabile è un abbattimento in termini di prestigio, di onorabilità e di quant'altro. Noi rigettiamo questi metodi squadristi e ci apriamo invece a un progetto importante che riguarda Comiso e la provincia di Ragusa per un suo rilancio, per fare ridiventare questa cittadina, questa amata nostra cittadina, un fiore all'occhiello diciamo nel panorama regionale. Di medesimo parere il segretario cittadino Gigi Bellassai? Molta amarezza, vuoto di idee e di iniziative, questi manifesti che continuano a trapezare la città vogliono trascinare la dialettica politica legittima e democratica in una rissa. Noi non ci prestiamo alla rissa, noi abbiamo oggi enucleato i numeri che sono ormai ripetuti da parecchi anni, noi non siamo più amministratori da quattro anni e mezzo, noi proponiamo per la città un'idea diversa, alternativa, loro hanno perso il controllo e ora naturalmente cercano di scaricare le responsabilità. E alla domanda di come il PD intende rispondere a questi attacchi il segretario non ha dubbi, con la chiarezza delle idee e un progetto di rilancio per la città di Comiso. Sarebbero emerse buone notizie per l'aeroporto di Comiso dall'incontro di stamani alla Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture tra gli amministratori locali e il Direttore Generale Mario Pelosi. In particolare gli amministratori hanno chiesto che l'aeroporto sia messo nelle condizioni di operare per verificarne l'efficienza e potere di conseguenza valutare la situazione con maggiore cognizione di causa. Stato, Regione, Comune e Società di Gestione nel frattempo faranno la loro parte in merito alla gestione economica e si potrà procedere alla classificazione dell'aeroporto di Comiso, se di interesse nazionale o meno, ad un tempo successivo. Disponibilità è emersa da parte del Direttore Pelosi che incontrerà tutti i soggetti coinvolti giovedì prossimo. E di pochi giorni fa la notizia che dal 1 luglio entrerà in vigore a Ragusa la cosiddetta tassa di soggiorno che dovrà essere pagata dai turisti che soggiorno nelle strutture ricettive. Ma ci sono forti critiche da parte delle associazioni di categoria. Sarà impugnata dalle associazioni di categoria la tassa di soggiorno. Il tributo che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio prevede il pagamento per ogni turista di età superiore ai 14 anni di un euro per ogni notte di soggiorno in una struttura ricettiva rientrante nel territorio comunale di Ragusa. Unica eccezione saranno i campeggi, gli ostelli della gioventù e le aree attrezzate per le quali l'importo da corrispondere di 50 centesimi. Sono esentati dal pagamento della tassa, lo ricordiamo, oltre che i minori di 14 anni, coloro che assistono i degenti ricoverati nelle strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale, i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore e gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio. Ma le associazioni di categoria insorgono contro la tassa a tal punto da pensare di impugnarla a livello regionale. Il motivo sarebbe il mancato passaggio della tassa all'interno della conferenza Stato-Regione, così come invece si era detto di fare. Se confermata questa mancanza, allora le associazioni si dichiarano pronte a procedere all'impugnazione, altrimenti in caso di conferma della tassa propongono che la si usi per i servizi turistici da concordare con le stesse associazioni. Buone notizie dalla provincia. È stata ridotta da 50 euro al metro lineare a 40 euro la misura annuale del canone per passi carrabili. Canone dei passi carrabili e dei mezzi pubblicitari trovata un'intesa tra associazioni di categorie e provincia. Nei giorni scorsi il commissario Scarso ha infatti firmato una deliberazione che prevede delle modifiche. Innanzitutto la misura annuale del canone per passi carrabili rientranti in una specifica tipologia dell'attività d'impresa è stata ridotta da 50 euro al metro lineare a 40 euro. L'aggiornamento tariffario dei canoni per i mezzi pubblicitari si applicherà poi per le autorizzazioni rilasciate dopo il 30 giugno dell'anno scorso. A partire dal 2012 la montare del canone non potrà essere comunque inferiore a 20 euro, mentre per le somme versate in più è prevista una detrazione del canone dovuto per l'anno 2013. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti. Parola d'ordine integrazione. Albia in provincia di Ragusa gli appuntamenti rientranti nel programma Opus Mundi. Oggi lo scenario dell'iniziativa è stata la Pinacoteca Comunale di Comiso. L'immigrazione come risorsa integrata e produttiva è lo slogan che sintetizza lo spirito del programma Opus Mundi, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno. Opus Mundi mette in contatto una rete costituita da diversi partner istituzionali, tra cui la provincia regionale di Ragusa e partner privati. La finalità è quella di tutelare i lavoratori immigrati. Previsti incontri, dibattiti, laboratori, ma anche corsi di formazione professionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un tema, quello della sicurezza, da intendere come strumento volto a migliorare le condizioni di lavoro e a favorire un miglioramento della produttività e della qualità di vita degli stessi lavoratori. Oggi, nell'ambito del programma Opus Mundi, è iniziata a Comiso la tre giorni dell'iniziativa Festa della Cittadinanza, che ha previsto stamattina laboratori ricreativi di giocoleria, origami e pittura, mentre alle 11 si è svolto un seminario sull'educazione giovanile. Domani la festa si sposterà ad Akate, dove dalle 18 in poi si svolgerà un convegno, seguito dalla proiezione di un docufilm e da una cena multietnica. Infine, domenica a Santa Croce ci sarà la festa conclusiva, con musica e bali dell'Africa occidentale. Secondo giorno domani della festa del preziosissimo sangue nella parrocchia di via Ettore Fiera Mosca a Ragusa, prevista alle 19 la manifestazione Calacipitu, giochi di una volta, alle 19.30 la pesca di beneficenza, alle 20 la sagra del piatto contadino con ceci e salsiccia, mentre alle 21.30 in programma la serata in musica animata dal complesso Ragusa Giovane. E' stato annullato per un lutto familiare lo stage di giovani calciatori, previsto per domenica, organizzato dal Comiso Calcio. E in chiusura vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21, andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti con l'ospite di oggi e l'avvocato Giovanni Scarso, commissario straordinario della provincia di Ragusa, con il quale ci siamo occupati di varie questioni che interessano il territorio ebleo a partire da quella infrastrutturale e dalla crisi dell'agricoltura. La puntata è stata registrata nei nostri studi lunedì dopo l'incontro che si è svolto all'ispettorato agrario di Ragusa. Ed è tutto per questa edizione, continuate a seguirci sul nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it e sulla nostra pagina facebook free tv comiso. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.